Torna ad animarsi il cantiere del teatro arcense all'ex Quisisana. Dopo l'intervento della scorsa settimana, dopo anni di fermo dei lavori, oggi alcuni addetti hanno rimosso la gru. Si spera siano interventi propedeutici alla ripresa dei lavori annunciati alcuni giorni fa dal sindaco per realizzare il teatro auditorium. Per far sì che questo si verifichi senza intoppi e nel minor tempo possibile, il cantiere dovrà essere sgomberato dalle attrezzature presenti e attualmente in mano al curatore fallimentare. Per partire con la nuova ditta continua a Betta, il cantiere deve essere liberato da tutti i macchinari che ancora stanno al suo interno.